ti vedo e ti sento bene, guardiamo se... niente non va, non va aspetta, no, aspetta, prova, prova, o lei, adesso va, va che alle 6 e mezza mi arriva il pupo, sì sì, va bene, non un minuto in più perché io dopo devo fare tutte le mie impostazioni prima che mi stacca un'altra ok, allora andiamo, bando subito alle ciance e... vai vai c'è del taglio proprio netto, eh? un taglio, sì, voluto, boh, ok, anzi, visto che il taglio è voluto per il caldo, mi spoglio bravo ok, ci siamo pensi di andare in line mentre ti... sei già in line no, no, siamo già in line da un po' ah, ok, perfetto se ci fosse la Carmen di te non ho paura, nel senso che non vorrei mai che ci fosse un ospite che incomincia a bestemmiare così, oh ciao, pam, 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 e via no, no, ma io... tu lo stai, non mi hai mai sentito a bestemmiare ma, quel cazzo per me... cioè, non lo faccio mai non lo so, non è da te grazie a Capadolo del Grano non è da me, che signorino che sono, veramente ciao a tutti bene, posso prendere i Kleenex bene, io sono la fede, l'ho visto prima esatto ma avevo dubbi ciao, ciao Simo, Stefano, Luca, Nello, Paul, tutti ciao, siete già tanti se vi è venuto a salutarvi tutti abbiamo già finito l'oretta di live oretta di live che come da titolo è ovviamente incentrata su ciò che abbiamo avuto il piacere, l'onore di vedere ieri sera l'onore di... ma... direi di partire con un'impressione generale sulla conferenza ti è piaciuta, non ti è piaciuta? ma, come ti dicevo stamattina... era ciò che rispettava le tue aspettative? allora, come modo di presentare videogiochi? sì, perché mi piace quando... diretti come dovrebbe essere un showcase loro vanno diretti, pochi fronzoli due secondi di fronzoli le solite cagate ne parlavamo anche stamattina di... proprio di marketing del tipo ah, quanto siamo belli, bravi quanto siamo team multiculturale quanto siamo qui, quanto siamo là spingiamo i limiti dell'inverosimile e poi hanno sparato uno dietro l'altro i videogiochi detto questo cioè, ora sapevamo già che non è che ci... cioè, non avevano in canna nuovi titoloni o nuove sorpresone in particolare, no? poi nell'era dell'internet insomma, è anche difficile tenersi in canna delle notizie del gene senza eventuali leak quindi ecco, magari su quello mi avrei gradito più novità, no? nel senso, come ti dicevo stamattina questo secondo me è uno showcase che riflette la situazione un po' di quella dell'industria videoludica quello che si sente ultimamente cioè dei videogiochi che per rispondere alle aspettative di tutti i videogiocatori e quindi essere enormi mappe grandissime durare 150 miliardi di ore hanno incrementato i costi di produzione rendendo queste case di sviluppo ancora più avverse a sviluppare nuovi giochi e quindi obbligandole a fare remastered, remake secondi, terzi, quarti, quinti capitoli e quindi è uno showcase che va molto in questa direzione se ci pensi perché abbiamo visto il remake di Star Wars e poi mi dici tu la tua impressione la remastered senza senso di Alan Wake per Sony lo so che prima era solo su Microsoft poi abbiamo visto Uncharted 4 più insomma un sacco di titoli che ostia ma sai che mi hai fatto aprire gli occhi su una cosa sai che credevo che fossero dentro tutti gli Uncharted però invece è solo il 4 e l'eredità perduta è vero l'eredità perduta che tra l'altro penso come te è più bello l'eredità perduta del 4 cioè mi è piaciuto quasi di più quasi quasi di più se non fosse che il 4 è stata la conclusione di della saga di di Drake e quindi ha avuto anche un valore diciamo sentimentale quasi un un addio un arrivederci un addio probabilmente se fosse stato per dire l'eredità perduta dopo Uncharted 3 avrei sicuramente preferito l'eredità perduta Ok ma senti invece le tue impressioni in generale le mie impressioni in generale vanno un po' a cozzare con quello che hai detto ovvero io non avevo grandissime aspettative mi aspettavo almeno un annuncio se non bomba comunque un annuncio di un titolo meglio ancora più titoli di cui non si sapeva nulla prima dello showcase e il fatto di avermi buttato lì questo Wolverine che A non mi aspettavo B non avevo mai sentito parlare e mettiamoci pure un C Wolverine è uno dei miei personaggi Marvel preferiti cioè per me già quello è valso il biglietto di per aver assistito alla 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 conference in generale anche se non hanno mostrato nulla ma c'è ma solo per il fatto di averlo annunciato ok non mi interessa più di tanto come dicevo stamattina nella live vampiresca quando venne annunciato Spider-Man del 2010 uscito poi nel 2018 sempre di Insomniac bellissimo gioco l'ho goduto pienamente anche perché Spider-Man è sempre stato anzi l'uomo ragno è sempre stato il mio personaggio Marvel preferito ma cioè ma non era Wolverine no quello è tra i miei preferiti quello è Over the Top come dire quando poi l'ho avuto tra le mani non che mi aspettassi chissà cosa però è stato come diciamo un'evoluzione dei giochi dell'uomo ragno che avevo giocato precedentemente di questo Wolverine non si è visto nulla ma bene o male posso immaginare che tipo di gioco sarà no cioè in buona sostanza un action in terza persona ecco però seppur non si sia visto nulla se sia appena agli inizi dello sviluppo sono contentissimo che l'abbiano annunciato sono contentissimo del fatto che prima o poi uscirà indipendentemente dal fatto che sia tra un anno due o anche di più magari non credo però però non ho capito questo ha risposto alla tua voglia di vedere qualcosa di nuovo qualcosa di nuovo esatto non mi aspettavo chissà cosa questo chissà cosa è stato per i miei gusti sicuramente una sorpresa in positivo poi per il resto della conferenza ho anche apprezzato il fatto che si hanno partiti con quattro titoli adesso l'ordine non me li ricordo ma di questi quattro titoli io avevo detto tre finiscono direttamente anzi rimangono direttamente sullo scaffale perché non mi interessano dal mio punto di vista di videogiocatore Marco Farina ma comunque tra di essi sicuramente sono contento che cioè sono contento che li abbiano annunciati e tra di loro sono anche contento che esistano giochi come Projective mi sembra che è un titolo che probabilmente non giocherò mai in vita mia un titolo smaccatamente ispirato ad altri giochi ma che ci può stare tra tutto e ho apprezzato questo mio personale smaronamento nei primi nei primi minuti della conferenza per poi via via passare a titoli che sicuramente interessano più anche me come che quale hai detto Project Eve mi sembra Eve quella specie di bionetta di Will May Cry ecco grazie a Bubbo Moccia e a Kasuz scusa un attimo ma quali sono quelli che sicuramente c'è assolutamente no per te assolutamente no per me allora Star Wars allora Star Wars è il primo Kotor non l'ho mai giocato e so che è un titolo sicuramente osannato da molti anche da molti nostalgici da molti fan e non fan di Star Wars quindi potrebbe essere una io ti dico a me parecchio cioè mi ha scimmiato stai parlando di Star Wars Knights of the Old Republic nel caso Kotor per per Insider e e devo dire che non è fra per caso che c'è una scaletta della degli annunci di ieri sotto mano sì sì ce l'ho ce l'ho qua te la passo c'è un barrier c'è un barrier c'è un ufficiale aspetta perché mamma c'è da te non me lo sarei mai aspettato cioè mi aspettavo un foglio excel già con le tue impressioni una volta come cazzo faccio a schiacciare su sto link figa ne ho mandati due quello che più ti aggrada che più mi aggrada però non riesco a schiacciarci sopra cosa vuol dire che non riesci a me a me permette da qua è venuto in sovraimpressione quindi cercavo di schiacciare lì ma non si vedeva un cazzo allora eccoli qua allora quelli allora vogliamo anche parlare del aspetta scusa Star Wars adesso ci arriviamo si potresti provarlo sì perché no io ti dico che volevo io volevo mi era venuta voglia di rigiocarlo ultimamente cioè senza prima che lo annunciassero e una cosa che mi bloccava era proprio l'obsolescenza del gioco in sé vorrei prima vederlo ecco per carità di dio mi lascio una porta aperta ecco tu mi hai chiesto quelli che sicuramente no facciamo a me di citare Gran Turismo facciamo i negativi Gran Turismo ma non per il colpo del gioco in sé ma perché non mi interessa ma vai per frizzo immagino anche invece ho già detto che è il primo system seller che vede annunciato poi sicuramente no Uncharted perché vabbè li ho già giocati e mi interessa recuperarli anche perché sono titoli abbastanza recenti anche perché la remaster del PS5 mi chiedo in che cosa possa cambiare rispetto alla quarta ah quattro ecco poi sicuramente no Bloodhunt Bloodhunt che non mi ha detto proprio un cazzo lì lì è da vedere nel senso mi sa di classico multiplayer come ce ne sono mille altri però è da vedere se ci sono dinamiche nuove non mi interessa minimamente detto molto chiaramente dio bono il punto più basso secondo me è stato Rainbow Six con i mostri con gli zombie che ho detto porco diaz cioè se già si vedono mostri anche in altre è però questo guardate da ex giocatore di Rainbow Six ti dico che era una modalità che avevano già provato ed è aveva avuto discretamente successo cioè Rainbow Six quindi è una manovra squisitamente per cercare secondo me di rilanciare il brand che ultimamente sta un po' andando incalando come multiplayer però sai che loro ogni toster sta andando incalando ma sai che non avrei mai detto cioè l'ultimo Siege mi sembrava fosse diventato uno dei giochi più giocati tra i competitivi negli sport però come numero di spettatori come è stato sempre un calando c'è una lamentela generale su tutti i vari forum del fatto che hanno un po' svaccato alcune delle cioè hanno introdotto dei bug che lo rendono particolarmente ingiocabile in determinate release io stesso l'ho un po' abbandonato per dirti nonostante mi piacesse giocarlo con gli amici e loro ogni tot facevano degli speciali quindi c'era lo speciale di Halloween che non c'erano un cavolo se vogliamo con la modalità di gioco standard tra i vari speciali che ci furono non so quanti Halloween fa ci fu una roba simile e siccome aveva avuto un successo pazzesco naturalmente la Ubisoft che quando quando vede un minimo di spike nei contenuti dice potrebbero esserci le soldi ci buttiamo proprio a pesce come direbbe Robilli di fatto hanno voluto fare una sorta di spin off ti dico io da ex giocatore sono curioso ma solo di provarlo poi sono convinto che dopo dieci minuti mi rompo le palle lo abbandono lì tanto conoscendo Ubisoft troveranno il modo di fartelo provare gratis prima o poi oppure troveranno pagare poco sicuramente altro no sicuro a Wonderlands quella specie di spin off di Borderlands che francamente cioè quali sono le tue impressioni su questo mi è sembrato una minchiata te lo dico a me è sembrato semplicemente un reschine di Borderlands tutto lì cioè ok i poteri ok tutto quello che vuoi però cioè è quello che mi aspetto da uno spin off di Borderlands ma non così no ecco non non ne sentivamo il bisogno mettiamolo personalmente no ecco altro no GTA 5 immagino no com'è GTA 5 immagino no ma allora io la voglia di rigiocare GTA 5 ce l'ho già da diversi anni infatti alla prima occasione in cui trovai per PS4 GTA 5 versione PS4 appunto a 20 euro l'ho comprato e ce l'ho ancora lì in ce l'ho fanato perché non cioè mi sono sempre trovato nella situazione di dire vorrei rigiocarlo però cazzo mi sento stronzo a rigiocare un gioco che ho già giocato quando potrei giocare a qualcosa di nuovo quindi sicuramente la versione per PS5 non la ricomprerò quando mai uscirà lascio il punto di domanda sulla mia volontà di rigiocare GTA 5 in versione PS4 su PS5 comunque è pazzesco penso che è uno dei pochi titoli che ha avuto un'edizione PlayStation 3 vabbè è uscito lì sopra PlayStation 4 PlayStation 5 cioè è la terza generazione che si fa beh stessa cosa Skyrim no Skyrim è uscito all'epoca della 360 è uscito dopo è uscito è su Switch praticamente vabbè sì più o meno poi altri no Alan Wake Remastered perché l'ho già giocato già ti avevano fatto schifo mi sono ricordo male non mi era piaciuto Guardiani della Galassia inguardabile secondo me proprio brutto da vedere e da giocare secondo me ancora peggio però ti faccio una domanda su questo ah no vai scusa non l'ho riuscito vai ma per dei film così iconici dove noi abbiamo associato i volti esatto i volti e quei personaggi però ci sono anche eccezioni per cui parleremo e se tu come la reputi questa idea di di mettere dei dei personaggi senza i volti che a cui siamo abituati noi senza doppiatore ti faccio due esempi Guardiani della Galassia o Avengers non li ho comprati cioè non ho comprato Avengers e non comprerò i Guardiani della Galassia perché mi sembrano giochi brutti ma il fatto che non abbiano i volti dei protagonisti dei film un pochino ammetto che abbiano come dire mi abbiano allontanato ulteriormente dal gioco ok però parallelamente esistono giochi come Spider-Man di Insomniac che quando giocava all'epoca non aveva non aveva le sembianze di Tom Holland che ho giocato tranquillamente anche senza o Batman lo so che ti sta sulle palle Batman ma anche Batman tanto di cappello ai giochi però in quei casi lì li ho giocati tranquillamente e li ho apprezzati tantissimo anche senza le sembianze degli attori ma pensi che sia dovuto anche il fatto che la maschera gli copre il viso o semplicemente non è correllato in che senso nel senso che Spider-Man e Batman hanno delle maschere tale per cui potresti mettere anche me cioè vabbè potresti non accorgerti della differenza ho capito però soprattutto in Spider-Man le fasi in cui non hai la maschera sono diverse chiaro ma può avere la mia domanda era può avere influenzato cioè alleggerito questo problema il fatto che avessero per la maggior parte del tempo le maschere questa è la mia domanda o non c'entra un cazzo no non c'entra un cazzo vai e poi quindi i guardiani della galassia no per te no 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 e basta credo come no sicuri eh no GT5 l'ho già detto basta sì c'era quello dell'Ukulee cos'era Chia Chia come cazzo si chiamava guarda ho aperto il link perché non me lo ricordavo se vuoi trovando no grazie Chia Chia Tropical Adventure però comunque a parte questo che anzi forse i guardiani della galassia mi sembra il peggiore però tengo a precisare che sono no per me perché non sono interessato al titolo semplicemente ma tolto i guardiani della galassia non non sono giochi brutti ecco sia chiaro no chiaro tipo Gran Turismo 7 io so che chi chi ama le macchine sicuramente lo prenderà con gioia esattamente esattamente no chiaro chiaro come scusa Ticchia magari cioè a un pubblico un pochettino più giovane di me di te no ma non è detto sai non è detto può essere non è detto ma sicuramente più friendly mettiamola così senti invece scusa apro già la parentesi qua lo so che ne abbiamo parlato stamattina ma chi si è connesso non ha sentito l'assenza di Kina Kena non ho ancora capito come si pronuncia anche perché non l'ho sentito dire da loro in questo showcase tu come come la vedi come ti dicevo stamattina no era per farlo ripetere a loro certo ribadisco quello che ho detto stamattina ai pochi eletti che ci ascoltavano allora è stato uno showcase incentrato sui AAA quindi Kena Kena potrebbe essere stato jumpato proprio per questo motivo qua è l'unico motivo che mi do anche perché è l'unico gioco di imminente uscita imminentissima uscita ma scusa ma quindi tu Tikia lo rieputi di AAA è per questo cazzo che a me mi ha fatto un po' storcere la bocca uno comunque non ne sta parlando nessuno di Kena perché gli articoli sul giornale sono sono apparsi con la demo per i giornalisti ancora in vista della data originale quindi mi sembra a luglio quindi loro ne hanno parlato un minimo a luglio dicendo quello che erano le loro impressioni ora parliamo di marketing quindi ne hanno parlato un po' a luglio poi è stato rimandato il titolo e in questo momento la sensazione è che non ne stia parlando nessuno tenerlo fuori da uno showcase inserendo altri titoli che secondo me AAA vabbè può essere cioè io non non avendo non essendo entrato in Tikia più nel nel dettaglio magari mi sto perdendo un quadro di un gioco da uno spessore un investimento incredibile però voglio dire togliere Kina secondo me non non che è un titolo che dovrebbe tirare le vendite della 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 playstation oltre che del computer è l'unico titolo e va ad allargare i pochi titoli i pochi titoli per playstation 5 certo dal loro punto di vista dal loro punto di vista anche perché con questo gioco vuol dire che sono anche un po' nella merda perché cioè se Kina che per quanto bello possa essere cioè non può avere quella peel secondo me di un di un AAA più blasonato no mi spiego è come se eh 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 all'epoca dell'Xbox One Orient the Blind Forest fosse stato uno dei System Seller che ehm no è chiaro che Microsoft pompava come per dire cazzo non potete giocarlo da nessun'altra parte quindi compratevi questo gioco perché è il gioco che vi farà comprare l'Xbox One chiaro però ricordati che i titoli di punta stanno cercando di farli uscire anche su playstation 4 perché evidentemente non hanno abbastanza base installata di playstation 5 per quanto abbiamo avuto delle vendite incredibili e invece Kina anche un pochino più di nicchia lo possono tenere sulla playstation 5 quindi io lo vedevo come una manovra di marketing del tipo dire vabbè alla fine senza metterlo tra i AAA però ah ragazzi c'è anche Kina esce fra un mese ricordatevelo solo su playstation 5 poi tiravi il solito spippozzo alla marketing dicendo abbiamo spinto i boundaries del del provo a pensare all'inverso non è che non l'hanno detto proprio perché è l'unico gioco di cui hanno no proprio perché è l'unico gioco di cui hanno una data da qui alla fine dell'anno quello è Deathloop va bene che tra l'altro hanno fatto vedere è multipiatta però Deathloop sicuro? non è temporale? no no mi sembra di no non mi ricordo beh io se lo prendo se lo provo e adesso vediamo che chiarisce la durata dell'esclusiva console su ps5 sì infatti stanno già confermando qua fa vedere quanto dura cos'era un anno sembra di ricordare un anno scusa io guardavo il pc e su pc esce anche lui 14 sì ok l'esclusiva console è valida per un periodo di tempo limitato il gioco non sarà disponibile su altre console fino a un anno dopo la data di lancio su ps5 sì il solito è la favola dell'orso adesso che hanno acquisito Bethesda sì no però dico la solito discussione horizon è un'esclusiva no perché esce anche su pc no 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 ma quello sono no comunque sono anche anche le esclusive temporali ti contribuiscono perché se il gioco comunque è un sossego io cosa ho letto è temporale anche se qui è sereno ma vaffanculo pizza di cazzo te le tue battute di merda vabbè ma chi è scusa pizza di cazzo ok senti parliamo invece di Deathloop già che hai aperto il vaso di Pandora ecco parto io o parti te parti te allora io prima di ieri non avevo minimamente idea di che cosa fosse quel gioco ok ti faccio questa cioè non l'avevo ancora capito continuavo ero veramente tiepido all'idea di che uscisse a breve stavo pensando per computer io a breve questo gioco e non mi convinceva l'hanno fatto vedere ieri e già le idee mi si sono chiarite un po' meglio e anche sulla base di quello che mi hai detto te il mio timore è che sia la solita cosa in cui devi assolutamente uccidere quelle persone tanto non stiamo spoilerando niente era il trailer uccidere quelle persone entro un tot di tempo per poter rompere questo cavolo di Deathloop e poter finire il gioco e quindi non vorrei che il gioco ti obbligasse e ogni di volte a trovare il percorso ottimale facendoti rigiocare la stessa cosa per poter arrivare a vedere la fine del gioco oppure farti rigiocare il gioco cento volte per vedere dieci finali diversi Majora's Mask esatto devo dire non lo so nella mia alla mia veneranda età che è poco più piccola della tua non so se me la sento di cioè sono da una parte incuriosito dall'altra non so se me la sento di prenderlo tu cosa mi pensi? allora penso che come prima mi hai chiesto quali no sicuri se tu mi avessi poi chiesto quali forse c'è Deathloop e forse cosa vuol dire? forse vuol dire che o lo gioco o non lo gioco ma se lo gioco lo compro non più di 30 euro quindi fra ma un annetto un annetto magari è quando lo trovi nuovo a quel prezzo forse o quando lo trovi o quando Mario me lo vende usato ma no Mario se è Bethesda secondo me appena possono te lo ficcano nel Game Pass tanto non hanno neanche cioè secondo me non hanno neanche visto che i giocatori già ci giocano da un anno non hanno neanche fretta di di tenerlo fuori dal Game Pass troppo lungo secondo me cioè potrebbe arrivare subito secondo me potrebbe essere potrebbe essere boh è un grosso question mark non ho capito qual è la difficoltà perché anche quello è un roadblock tu che hai parlato con Fossa che ha ricevuto il gioco hai parlato anche di difficoltà o no non ho parlato di difficoltà l'unica cosa che mi hanno detto è noi che l'abbiamo provato dopo l'avere esternata esternato la mia il mio apprezzamento per Returnal mi hanno detto no allora devi provare assolutamente Deathloop però il provare per me vuol dire pagare quindi Bethesda se ci ascolti mandate una copia anche a me se ne incasso si amazza una giusto va bene va bene e quindi ecco questa questa però devo devo essere franco è è un titolo dove finalmente ho capito qualcosa di più rispetto ai soliti teaser incomprensibili quindi tanto li cappello a questo showcase e e niente stavo guardando gli altri titoli comunque ritorno a bomba su Star Wars e devo dire che grazie a Dio adesso l'hanno se lo rifanno lo rifanno bene lo rigiocano molto volentieri e non so quanto ti possa piacere Marco perché tu praticamente ti crei questo c'è una storia che è carina e ti crei questo personaggio e decidi tu che ramo della forza far prendere a questo personaggio compresa anche delle situazioni in cui potresti stare nel mezzo con dei poteri un po' più tendenti al lato oscuro a che anno risale l'uscita originale vent'anni fa non mi ricordo esattamente mi ricordo di averci giocato sono 20 o meno 15 comunque lo dico subito guarda meno male che c'è il google credo 2003 scrivono in chat quindi ho sbagliato meno male che c'è il google allora vediamo subito wikipedia eccolo qua 2003 avevano ragione eh sì ma bene o male mi ricordo mi ricordo ancora il cd fai te quindi sì beh era era parecchio bello era parecchio bello cioè per però secondo me vale ancora di più se se sei un appassionato di star wars perché ti fai il personaggio come vuoi tu e puoi usare proprio delle abilità che sono super top per dire guarda l'ultimo che ho giocato io fallen order cioè io da non fan di star wars l'ho apprezzato molto come gioco un po' per il gameplay anzi soprattutto per il gameplay perché vabbè i richiami a star wars magari li posso cogliere mi interessano fino a un certo punto però ho apprezzato i giochi nel suo complesso ecco a te mi ricordo erano piaciuti il i mass effect vero si giocati come ho voluto ho cercato di trovare delle analogie arrampicandomi sui vetri però non so se se ma so ti potrebbe piacere però si dai ti potrebbe piacere dai mettiamola così dai secondo me ne vale la pena comunque però è un gioco purtroppo di quelli dove per esempio io mi ricordo che ci ho perso un sacco di tempo c'è proprio tanto tempo quanti eh non mi ricordo sono passati 20 anni Marco però mi ricordo perché all'epoca tanto tempo poteva essere 30 ore attenzione ma no ma perché mi ricordo che avevo fatto addirittura più personaggi e avevo cercato anche perché poi il gioco ti obbliga a prendere delle decisioni eh non spogliero nulla perché un sacco di cose me ne sono scordate però eh ti obbliga a prendere delle decisioni quindi avevo poi proprio esplorato il gioco in tutte le sue possibili eh decisioni mettiamola così vabbè che comunque è una scelta tua non l'obbligata no no assolutamente no però ci ho perso veramente cioè mi c'ero perso perché poi c'era quest'albero immenso delle skills del cavaliere Jedi molte di più rispetto a quello a dell'ultimo no Fallen Order tu hai un path comunque sei se vogliamo un un padoan che piano piano riscopre i propri poteri però sei c'è il gioco se tu ci pensi sei proprio livello base schifoso no come potenza nella forza no però è così invece di là tu puoi arrivare cioè tu arrivi a un certo livello dove scopri che sei molto potente no e già c'è una cioè ci sono delle differenze perché lì proprio esplori tutte le vie della forza qua la forza ti aiutava ad andare avanti nel gameplay ed era anche un un trucco per dare più profondità ai tuoi livelli ti ricordi tu riandavi in certi mondi e potevi esplorare zone nuove perché avevi il potere di attrarre o il potere di spingere certo certo e però ecco era molto più cioè The Old Republic è molto più basato sulla forza e sul Cavaliere Jedi diciamo che Falle on Order è già un po' per tutti però concordo con te che sia una piccola gemma degli ultimi degli ultimi anni tipo a piacere diciamo diciamo di sì altri invece per forza sì che hai detto devo averlo per forza sì per ora non abbiamo ancora vabbè a parte cosa a parte Wolverine per forza sì Spider-Man 2 per forza sì anche se 2023 speravo un po' prima sai che cazzo questa cosa qua non me la spiego cioè l'unica spiegazione che ho sul fatto che esca nel 2023 è che Wolverine esce nel 2022 perché se non esce nel 2022 Wolverine e Spider-Man esce nel 2023 vuol dire che Wolverine esce nel 2024 e minchia ma io invece una spiegazione ce l'ho che magari è una cazzata proprio tiro coi dadi secondo me perché il team l'hanno occupato l'hanno praticamente è successa la stessa cosa che è successa a Naughty Dogs per The Last of Us quando lanciarono la Playstation 4 la Sony che cosa ha detto ci servono titoli di punta ci serve mettere titoli per attrarre naturalmente il numero di giocatori più alto possibile allora sai che cosa facciamo facciamo una remastered di The Last of Us quella remastered aveva tenuto occupato avevo letto diverse interviste della Naughty Dogs aveva tenuto occupato il team della Naughty Dogs parecchio tempo e aveva ritardato se vogliamo l'uscita che poi è andata sulla morte della Playstation 4 di quello che era The Last of Us 2 insieme ad altri titoli in pipeline come Uncharted 4 e L'Ele dita perduta perché il team era stato obbligato a rilasciare questa remastered e mi ricordo che avevano avuto un sacco di problemi proprio così notizie a caso al modeling delle luci su Playstation 4 siccome su Playstation 3 era una cosa che era gestita in tutt'altro modo per poter rimasterizzare il gioco e rimodellare le luci in modo da sfruttare l'hardware della Playstation 4 avevano perso eoni di mesi e ho la vaga sensazione che abbiano fatto la stessa cosa sulla Playstation 5 cioè loro gli abbiano detto tirateci fuori questo Miles Morales che era nel tuo bagagliaio tirateci fuori il Miles Morales fatecelo che busti in particolar modo la Playstation 5 perché deve essere un titolo vetrina per attrarre più giocatori e concentratevi su quello quindi secondo me Insomniac per forza di cose è dovuto anticipare Miles Morales e posticipare eventualmente Spider-Man 2 ok ma quindi secondo te Wolverine quando esce secondo me Wolverine uscirà dopo Spider-Man 2 ma sicuro un catrota potrebbe essere potrebbe essere è una delle due opzioni che dicevo prima Marco o sono stati così bravi ma così bravi da tenere tutto nascosto e dire siamo già avantissimo con lo sviluppo del gioco e gli facciamo vedere solo un teaser adesso e nessuno ne sa niente quindi tutti quelle cavole di testate giornalistiche che vivono del andiamo a vedere se Insomniac sta assumendo developer per nuovo progetto per bla 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 sono stati tutti fregati perché lo sai che fanno così sono stati tutti fregati e loro hanno ottenuto questo mega segreto senza leak senza nulla o per forza di cose uscirà dopo dopo il 2 come fanno dovevano già essere uno stadio del gioco che se così fosse ti domanderei perché non hanno mostrato di più e tu dici per non rovinare o per creare hype ci può stare non lo so potrebbe essere anche secondo me tra le due opzioni che ho detto prima mi sembra quella più possibile cioè 2023 Spider-Man 2 2024 oltre Wolverine mi chiedo cosa possa avere in più Spider-Man 2 rispetto al primo visto che comunque secondo me il motore grafico bene o male sarà quello e anche la città eh anche la città probabilmente eh sicuramente da poter giustificare tutto questo tempo prima dall'uscita di Spider-Man 2 però io te la rigiro come tu l'hai rigirata prima devono anche trovare qualcosa di nuovo per permettere al titolo di non essere uguale al primo salvo qualche piccolo pezzo di storia cioè devono o far passare un po' di tempo in maniera tale che il giocatore cioè non abbia appena giocato il primo ok perché uno dice ho appena giocato il primo gioco il secondo ho appena giocato Miles Morales scusa gioco il secondo e cavoli è uguale cioè il gameplay è uguale la città è uguale cioè rischi di secondo me di bruciare un po' il titolo o devi il team avrà questa questa sfida di innovare questo titolo che è difficilissimo da innovare perché se tu ci pensi come fai è quello che dici tu cioè nel senso la città qual è? New York ok c'è già Spider-Man 2 sì tra l'altro avevamo già apprezzato nel 2018 che c'era col fatto che era rientrato tra virgolette nel Marvel Universe se tu andavi in giro per New York vedevi la casa di Doctor Strange quindi c'erano già queste tra virgolette innovazioni per i più per i più fissati però adesso come fai a a far venire al di là della nuova storia che se è come quella precedente secondo me anche sviluppano anche bene però come fai a a dare quel grip in più a questo titolo rispetto a quello precedente si devono inventare qualcosa di nuovo e far passare comunque il tempo perché sennò ti spaccheresti le palle Marco mentre il trailer il trailer di Wolverine quando te ne sei accorto che era Wolverine? io già solo guardando la camicia a quadri ma certo immediatamente ma immediatamente più che altro Venom giocabile? da quello che si si vede nel trailer quello potrebbe essere un'innovazione perché Venom arriva e deve scegliere uno dei due da quello che si capisce quindi non vorrei che tu dicessi arrivi e dici utilizzi lo Spider-Man di Miles Morales o utilizzi il vecchio Peter e il tuo il tuo nemico diventa naturalmente l'altro con Venom cioè non lo so dimmi tu secondo me potrebbe essere una delle chiavi non so come ma secondo me non sarà il villain del gioco o meglio ti renderanno possibile il fatto di utilizzarlo come uno dei protagonisti ecco beh anche il precedente Spider-Man se ci pensi c'era il villain quello quello principale però sono apparsi diversi i villain sì sì certo certo devono stare attenti hai capito è difficile per loro secondo me tenere il giocatore ingaggiato quindi questo secondo te questo per te sicuramente sì e anche per me sì Wolverine sì sulla fiducia a prescindere esatto sulla fiducia però tendenzialmente ti dici se è come Spider-Man va bene va bene di più e altri sì e l'altro sicuramente sì è God of War nonostante il precedente e nonostante questo sia assolutamente in linea con il con quello del 2018 anzi non vedo grossissime differenze tra questo e quello del 2018 anche in termini grafici perlomeno in base a ciò che si è visto ieri sera però vabbè un po' che comunque io di quello del 2018 non ho apprezzato l'estensione questo sarà ulteriormente grande l'hanno già l'hanno già l'hanno già annunciato però da giocare non era era bello da giocare e comunque di base il mio amore per la saga di Kratos per Kratos più nello specifico non mi consentirà di dire no basta no basta non giocherò più a God of War anzi cosa che invece ti è successa con Gears of War quindi non è scuso che ti possa succedere anche con Kratos Federico mi ricordava di dirti che è un po' che non dici che non ti è piaciuto God of War quindi se vuoi enfatizzare ancora no no è già bastato ieri sera mi sono divertito tantissimo invece a me è piaciuto God of War quindi io sono molto contento devo dire che vabbè onestamente non vedo l'ora di metterci le mani ieri hanno particolarmente enfatizzato il fatto che si focalizzeranno molto ancora di più non so se è sentito fino al limite estremo sul rapporto tra naturalmente Kratos se è il figlio e quindi stiamo a vedere cosa svilupperanno hanno anche che annunciato perché non ci fosse stato i personaggi le new entry del cast dicendo che ce ne saranno alcune che non si sono viste nel trailer ma ci saranno tra l'altro hanno citato anche Odino se non ho sentito male hanno già liccato la foto oggi no quella nel gruppo non hanno mandato Thor si hanno mandato Thor è vero hai ragione hai ragione no 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 Odino non l'hanno liccato però hanno parlato anche del fatto che ci sarà ci sarà Odino quindi staremo a vedere se li farà tutti fuori uno dietro più che altro come diceva aspetta Ciscone85 mi girano le balle che hanno detto nel post show che sarà l'ultimo capitolo della saga non rena di Kratos quindi nessun titolo puramente next gen con questa ambientazione fantastica Oddio come no questo non lo capisco perché nessun titolo next gen perché 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 lui crede che siccome esce anche su PS4 sarà limitato da da questo fattore cosa su cui io non sono minimamente d'accordo ma è come i computer ragazzi stanno diventando come dei computer sono dei computer tu dici sono dei computer infatti Marco te lo dico più volte picci merda che a livello se tu non dici picci merda che non ti è piaciuto quello fuori comunque di fatto tu vai alle impostazioni grafiche dici livello dettaglio minimo luci schifose shadow una sostanza cioè eh sì cioè nel senso perché c'è questa convinzione e non riesco a capire il perché un cazzo di gioco che esce per una PS4 anche per una PS4 debba limitare la versione PS5 ma è esattamente l'opposto cazzo cioè viene realizzato per PS5 e poi viene castrato per essere giocabile anche su PS4 sbaglio esattamente come su PC che un gioco è come se un gioco nel 2022 uscisse per PC un'esclusiva meravigliosa per PC ma no esce più brutto perché deve uscire deve essere giocabile anche su dei PC di 10 anni fa non è vero vabbè c'è la gente si convince quindi God of War e basta e invece vediamo se ci sono altri titoli che ci siamo persi ecco nei titoli bravo eccolo lì dei titoli in forse titolo che io ostia che è stato Spartan FP a lei nei titoli che fino ad oggi anzi nei titoli in forse presentati ieri ora ci metto Ghostwire Tokyo che fino a ieri non non mi aveva detto nulla ieri vedendolo in gameplay ha qualcosa di che mi attrae forse perché è un a me invece è successo l'opposto non sei l'unico l'han detto anche stamattina grazie a lì no sono partito che ora parliamoci chiaro perché cioè ora non è che siamo tutti idioti però voglio dire l'anno scorso quando l'hanno mostrato non mi ricordo più hanno mostrato un teaser di due secondi da cui come un Wolverine non capisci un cazzo cioè quindi non sai potrebbe essere Tetris come potrebbe essere strategico come potrebbe essere cioè non hanno mostrato nulla però quel poco che avevano mostrato ti dirò che mi aveva aveva stimolato molto la mia voglia di prenderlo ieri mi hanno un po' fatto passare questa voglia non del tutto però mi hanno messo molti più dubbi perché guardando quel cavolo di gameplay a parte c'è stato un momento in cui ho detto all'inizio ho detto ma questo è Slenderman perché c'erano quelli senza faccia sì non c'è pensato pure tu io a un certo punto ho detto ero partito dicendo è Ghostwire poi ho detto no sarà Slenderman c'è lo Slenderman e poi è ritornato di nuovo all'ambientazione tipica di Ghostwire e ho detto ah no è Ghostwire non lo so è un mischione di gameplay se tu ci pensi cioè vedi elementi che hai già visto in X altri giochi però non saprei non riesco veramente a inquadrarlo ti devo dire onestamente sarà che non è che abbiamo visto un gran che però no c'è però che mi ha dato l'idea del mischione però un mischione che potrebbe potrebbe interessarmi potrebbe piacermi ma addirittura da day one no 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 i miei giochi in forse vogliono dire che assolutamente non sono al day one ah ok come Deathloop ecco come Deathloop poi vediamo se ci siamo persi qualche cos'altro ecco Alan Wake io me lo sarei veramente risparmiato ma no ma poi Remastered hai capito Remastered Remastered ecco questa è una domanda che ti volevo chiedere cioè Remastered io ci ho giocato per computer grafica pompata era meglio di quella che hanno fa bravo stavo per dire una stronzata perché Kotor è remake non Remastered giusto quello è remake addirittura e lì hanno mille dubbi da allora quando prendi questi giochi qua allora sono i meno rischiosi della terra perché sono dei giochi che hanno avuto un seguito pazzesco Knights of the Old Republic ok però il problema è che è anche un gioco vecchio quindi loro si trovano davanti a un bivio e gli devono dire vabbè gli stronzi come me che ci hanno perso ore e ore e ore al posto di studiare con mia madre che mi insultava ero ancora al liceo non mi ricordo più o forse all'inizio dell'università comunque con mia madre che mi insultava sicuramente lo prenderanno perché a me era piaciuto un sacco poi magari scopro che rigiocarlo vicino ai 40 mi fa cambiare impressione però contestualmente devono anche svecchiarlo per il pubblico nuovo che quindi tu gli devi portare un gioco che comunque deve essere giocabile negli standard di oggi quindi secondo me è dalla parte minimizzi il rischio però dall'altra ti assumi anche un po' di rischio perché come fai ad attrarre i nuovi giocatori no? Mentre Alan Wake non è niente di tutto questo Alan Wake hanno secondo me è proprio marchetta per prendere un titolo in più l'hanno portato nell'universo Sony e di fatto come ti dicevo prima hanno fatto semplicemente stile computer passi da grafica bassa media perché era per 360 a ultra di pc non lo so cioè ci può stare esatto nell'ottica di avere un titolo in più nel palmarès della libreria ps5 ovvio è che visto visto anche nel trailer di ieri cioè ti rendi conto di quanto bello potesse essere tot anni fa oggi non lo è più così tanto però al tempo stesso gli amanti soprattutto di questo gioco ti diranno devi giocare per la grafica devi giocare per la storia devi giocare per quello che ti riesce a trasmettere va bene non mi ha trasmesso un cazzo però no ma me ha trasmesso però io a inizio live ti ho proprio detto non me la sento di andare lì che per farlo girare sul computer d'oggi probabilmente devi cioè sai sono quei classici giochi talmente vecchi che magari ti girano pure male perché sono su su architetture vabbè e e poi cioè con questi dettagli geografici cioè io non è che per me la grafica è tutto però voglio dire cioè un minimo no 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 scusami se ti interrompo stavo cominciando a leggere un commento di Just Things che dice Alan Wake soprattutto serve come manovra di marketing per dire guardate un po' un'ex esclusiva Microsoft esce anche su PlayStation no non è affatto così perché è un conto e se tu mi vai a fottere un'esclusiva Microsoft o recente o che va avanti nel tempo e che a un certo punto bon diventa multipiattaforma quello potrebbe essere ma che tu mi vada a prendere un'esclusiva di 15 anni 10 anni fa 12 anni fa quello che era e te la porti su PS5 con una remastera di merda no non fai una è sì un gioco in più ma non è proprio un gran bel biglietto da visita per PS5 per come la vedo io no ma la vedo uguale a te tra l'altro ti hanno citato Alan Wake e Twin Peaks no mi hanno messo in bocca una cosa che io non ho mai detto chi è stato aspetta ecco lo va MJ Not dice io non avendo mai giocato Alan Wake sarei interessato poi se Farenz lo ha definito il Twin Peaks dei videogiochi una ragione in più per comprarlo ora io non ho una grandissima memoria specialmente anche su ciò che ho detto in un video di 10 anni fa ma a mia memoria non ho mai detto che Alan Wake è il Twin Peaks dei videogiochi porco dia cioè ci mancherebbe altro cioè Twin Peaks io come serie io mi ricordo io ho detto semplicemente che diverse cose diversi aspetti diverse anche cose particolari presenti nel gioco erano prese esplicitamente da Twin Peaks era una copia era una copia io me lo ricordo col video tra l'altro perché mi ricordo che dopo che l'avevo visto nella tua flop avevo deciso di giocarlo cioè al contrario però però sì sì mi ricordo che mi ricordava Twin Peaks come ambientazione c'era la cittadina le segherie la tizia con non con il la signora del ceppo ma con aveva in braccio una lanterna mi sembra così che erano chiaramente dei richiami a Twin Peaks ma io vi giuro che in questo momento ho visto una persona riflessa qua ma non ero io vabbè lasciamo perdere questo ho la pelle d'oca stiamo parlando di Twin Peaks quindi robe paranormali detto ciò non mi sarei mai permesso di dire che Twin Peaks che Alan Wake è il Twin Peaks dei videogiochi no e comunque era un flop ah for spooky no stia è vero mi sono dimenticato di citarlo titolo che mi attirava ho visto il trailer mi attira ancora di più non da day one e sai che cosa mi ha ricordato nel gameplay ci stavo pensando ieri e ho detto cazzo io lo devo dire un po' non ti ha ricordato Control cosa Forspoken ci sono delle parti di gameplay esatto dove lei usa sto potere che sembra Control guardalo bene quali no minimamente me l'hai ricordato mi ricordava di più un Final Fantasy prova prova a riguardare il che mette la mano così no è presente che anche in Control metteva la mano così aspetta la storia prendo metteva la mano così e vediamo se riesco a trovare il pezzo che cioè a me è ricordato Control no a me è ricordato gli ultimi Final Fantasy come action RPG che poi non so neanche se questo sarà un RPG però credo di sì almeno in parte sai cos'è la domanda che ti faccio è quindi ti aspetti un open world ah ecco Forspoken è sviluppato Final Fantasy XV perfetto figura di merda o meglio figura di merda perché non lo sapevo però grande senso grande acume perché ho notato le simulianze ecco aspetta aspetta vediamo se no vabbè dopo ti mando il punto dove ti dico devo riuscire a linkare il minutaggio dove mi hai ricordato una tech demo per PS4 no comunque e quindi per te è un sì anche se è un forse cioè è un sì ma è un sì non a 70 euro 80 euro quello che è piccola parentesi hai sentito le notizie sul costo dei giochi di Horizon no che all'inizio la Sony aveva detto che non c'era l'upgrade gratuito tra PS4 e PS5 aveva cagato fuori i costi che sono ancora più alti di quello che ci si immaginava cioè mi sembra ben oltre gli 80 euro per la versione PS5 può essere 90 non lo so non so nulla a riguardo non vorrei dire una cagata controllo intanto parla e più che altro vorrei capire quanto maglia le foglie quanto verrebbe a costare l'acquisto del gioco PS4 e poi l'acquisto sullo store dell'aggiornamento a adesso è gratis adesso è gratis Ucaz è gratis ci siamo scannati l'altra mattina ci siamo scannati l'altra mattina perfetto sì perché in molti dicevano che Sony ma io ammetto ripeto di non avere particolare memoria però in genere quando si parla di danè cerco di memorizzare le cose in molti dicevano Sony al momento dell'uscita di PS5 disse che l'aggiornamento del gioco dalla versione PS4 alla versione PS5 sarebbe stato gratuito a me francamente non risulta anche perché hai smesso di giocare di comprare giochi per PS5 tutti te lo comprano in versione PS4 e lo aggiornano gratuitamente alla versione 5 quindi non no ma magari l'hanno detto che per qualche titolo per permettere cioè figurati ma tu non avresti per esempio voglia di andare avanti con la storia di Ghost of Tsushima oddio l'ho giocato talmente recentemente che di giocarmene un altro no di giocare un'espansione di quello no cioè del primo un possibile Tsushima 2 o come diavolo si chiamerà tra x anni magari anche si ho detto una cagata mi risulta prezzo normale standard 80 euro ma che dite 75,90 e PS4 69,90 ok scusa 79,90 69,90 ho appena detto ho detto una cagata no no ma io non avevo sentito notizie in merito a magari un'edizione col libretto o strozzate al genere no no magari qualche special edition che era magari mi sono confuso con quello può essere può essere vabbè quindi insomma voto da 0 a 10 a questo showcase ti obbligo a fare direi un bellotto dai bellotto proprio gioco migliore a livello di conferenza generale ecco gioco migliore Wolverine indannazione no non posso no devo dire che cosa fu gioco peggiore eh cosa i guardiani della galassia per me figa l'hai proprio odiato quel gioco sì 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 no l'ho odiato già da quest'estate quando l'avevano annunciato guarda più o meno ti ripercorro ma ti direi che ti chieda quello mi ha proprio non posso però paragonarlo come come peso e come quando c'era la tipa che suonava l'ukulele dove tu devi mettere il coso lì lì penso di aver detto no non mi ci vedo proprio non posso andare lì non posso suonare l'ukulele così no basta per me quel momento lì a me ha ricordato un po' la fase dell'astovast bravo sì ecco sei prevedibile va bene e un plauso gta che io adesso ti giuro vorrei andare in rockstar e vedere quanto cazzo venderanno su playstation 5 è facile che vanno ancora parecchio perché comunque di contenuti online lo so che tu non giochi online ma c'è gente che passa il tempo a giocare online continuano a lanciarne e tanto di cappello che hanno cavalcato tre tre generazioni e di gta stai ancora nessuna notizia sì non che me l'aspettassi eri un annuncio così surprise no 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 così assolutamente ci vorranno ancora quattro anni anche un altro che non mi è particolarmente piaciuto è quello di tiny tinas wonderlands anche lì ecco quei due lì per me assolutamente da evitare e primo gioco che pensi di comprare tra questi dello showcase di quali ci sono date d'uscita anche questo è vero potresti sorprendermi Deathloop passa da forse a lo voglio subito o i guardiani della galassia che è una data d'uscita no no vabbè comunque dai è stata una sì sì assolutamente soddisfatto buono showcase di cui ho scoperto l'esistenza grazie a te perché se fosse stato per me nemmeno sarei fumato proprio diretto così bypassato vai passato va bene va bene ce lo sentiamo ci siamo prometto che cercherò nonostante l'impegno del quanto ti manca quanto ti manca dammi dove sei alla fabbrica di heisenberg posso chiederti se ti ricorda vagamente la versione brutta di wolfenstein a me ha ricordato un fps più in generale la parte prima quella dove ci sono le orde di licantropi qua sì c'è il super soldato o c'è questo qua da sparare in mezzo al cuore o alla schiena sì però tutto sommato spero anche che finisca la svelta perché ne ho pieni coglioni sia di questa zona sia del gioco in sé e stavi dicendo nonostante qual è l'impegno nonostante nonostante l'impegno dal gardacon a cui vi invito nuovamente a partecipare domenica quando sarò presente anch'io domenica pomeriggio cercherò appunto di finire questo weekend residentivo ok va bene dai grazie mille no grazie a te per la chiacchierata la scaletta sono qui per te ok visto che carmen non c'è e allora maledetta cioè salta le chat audio mattutine salta le live è veramente una ragazza cambiata cambiata cos'è che l'ha cambiata ma chi lo sa chi lo sa va bene francesco buona serata buon weekend anche a te ciao a tutti ostia volevo ciao a tutti volevo chiudere la la lo stream ma invece ho chiuso così in faccia francesco invece voi siete ancora qua va bene ragazzi ciao ci vediamo domenica perché ci sarà un bacio